Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Maggior sviluppo dell'industria e dell'azienda 4.0. Questi i punti focali su cui dovrebbe concentrarsi la realtà valtellinese-valchiavennasca per poter scongiolare la crisi. A confermarlo è il presidente di Confindustria Aleco Sondrio, Lorenzo Riva, che in questi giorni ha analizzato il settore provinciale evidenziando luci ed ombre. Se da un lato domande ed attività produttiva sono rimaste stabili, le vendite hanno subito invece un calo. Per questo, secondo Riva, di fondamentale importanza è il legame da instaurare con il mercato estero, anche se molto dipenderà dall'andamento di quest'ultimo in base agli scenari internazionali, dato purtroppo poco confortante il tasso di disoccupazione a livello giovanile. Per questo il neopresidente del gruppo ha sottolineato l'importanza del sistema di alternanza scuola-lavoro, utile non solo agli studenti per avere una certezza di inserimento in ambito lavorativo, ma anche alle imprese, in modo da poter avere figure adatte ai loro parametri e soprattutto qualificate. Uno degli aspetti paradossali è che, infatti, nonostante la crisi, si fatichia a ricrutare il personale adatto agli standard richiesti. Altro nodo cruciale da sciogliere, l'implementazione di un'industria sempre più digitalizzata, la cosiddetta industria 4.0, un modello di rete particolarmente utile per le piccole e medie imprese, che necessitano maggior visibilità rispetto alle grandi industrie. Un cammino estremamente proficuo, ma che necessita di infrastrutture adeguate, che purtroppo in provincia non sono ancora implementate completamente. La banda larga non lo aggiunge ancora a tutto il territorio, ma entro il 2020 l'obiettivo è di far sì che il 100% delle aziende siano coperte a 30 MB per secondo ed almeno il 50% a 100 MB per secondo. Ultimo, ma non per importanza, la problematica relativa alla viabilità, ancora troppo rallentata e difficoltosa. Le priorità, ha sottolineato Riva, sono la variante di Morbegno e quella di Tirano, ma può essere interessante anche trovare una via alternativa attraverso il traforo del Mortirolo.